La SLA è una malattia orribile, è un essere umano assolutamente cosciente di essere paralizzato all'interno del proprio corpo. In una popolazione normale il rischio di ammalarsi è di 3 su 100 mila abitanti, nei calciatori è di 20 su 100 mila abitanti. Il dato epidemiologico è impressionante. Secondo me il calcio non c'entra assolutamente niente. Qui non bisogna innamorarsi di nessuna tesi o pregiudizia. Questa non è una malattia, è una condanna a morte. Tutti parlano e non sanno partire dalla procura. Vino io, se vogliono. Li invito a fare un giro con la stronza per una settimana, gliele presto volentieri, poi ne riparliamo. E se io la chiamo la stronza? Grazie a tutti.